Musica Le compravendite di case in Toscana sono in ottima salute, lo certificano i dati della Federazione degli agenti immobiliari che stima una crescita del mercato rispetto allo scorso anno. Ce ne parla Sandra Cecchi. Regge bene il mercato della casa in Toscana, un andamento positivo certificato dal FIAI per la Federazione degli agenti immobiliari. I dati parlano di compravendite in ulteriore aumento nel 2022 rispetto all'anno precedente, con prezzi sostanzialmente stabili. Le prospettive sono molto buone perché di fatto questo mercato è un mercato ancora vivo, attivo, propositivo, ci sono tante richieste e gli immobili sul mercato sono ancora un numero sufficiente per poter soddisfare le richieste degli acquirenti. L'acquisto di una casa si conferma dunque il bene rifugio per eccellenza anche per le famiglie toscane. In provincia di Firenze la zona più costosa, fino a 6.800 euro al metro quadro, è Pian dei Giullari, la meno cara Marradi. In flessione le compravendite nell'Interland fiorentino per la sempre maggiore difficoltà a raggiungere il centro. Resta alta l'attrattiva di Siena, le cui abitazioni sono molto richieste dalla clientela locale, mentre lungo le coste della Mareme e del Livornese la domanda di case è molto più alta dell'offerta. Nella nostra regione vanno bene anche le locazioni, ma gli agenti immobiliari chiedono la riforma normativa, ferma il 1978 e molte critiche sono arrivate alla proposta del sindaco Nardella, rilanciata pochi giorni fa, di una legge nazionale per limitare gli affitti brevi. Il settore immobiliare sta vivendo però anche un periodo di incertezze per il futuro, dovuto al rialzo dei tassi dei mutui, al rincario energetico e dalle modifiche restrittive al super bonus. Decreto blocca cessioni barra eliminazione sconto fattura, noi non l'abbiamo visto di buon occhio, abbiamo posto dei correttivi, alcuni recepiti, come mantenere lo sconto in fattura, per esempio per gli interventi sismici e quelli di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a quelli degli ACP.